Ciao artisti e benvenuti sul Davido Jock Channel, arte a 360 gradi. Finalmente, dopo più di un mese, ricomincio a fare video. Purtroppo ero impossibilitato a farli per via del fatto che il mio portatile era tutto da cambiare. Batteria, tastiera, alimentatore... Un macello. Ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Eccomi pronto a ripartire. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Oggi vi voglio mostrare come realizzare i pezzi del Tangram. Avete presente, no? Quel gioco cinese creato secoli orsono, col quale è possibile realizzare delle sagome avendo a disposizione soltanto 7 pezzi. Questi 7 pezzi sono precisamente... Due triangoli grandi, un triangolo medio, due triangoli piccoli, un rombo e un parallelogramma. Questi 7 pezzi sono chiamati Tang. Comunque, come vi dicevo prima, i can si possono combinare in innumerevoli modi, ottenendo un numero altissimo di sagome diverse. L'idea l'ho presa da quest'app per smartphone. Siccome anche i rompicapi, sotto un certo punto di vista, sono una forma d'arte, ho pensato, perché non parlarne? Dividendoli in gruppi, che è quello che farò quando si tratterà di realizzare i singoli video, possiamo andare a preparare con... Lettere, numeri, aquiloni, teiere, scarpe, armi, figure geometriche, alberi, cani, gatti, conigli, pesci, uccelli e altre tipologie di animali. Angeli, facce, persone, tra le quali... Danzatori e cavallerizzi, navi, palazzi, piatti, candele, lampade e attrezzi in generale. Insomma, come potete vedere, un bel po' di roba. E ci sono anche delle varianti che prevedono la dimostrazione dell'impossibilità di eseguire un determinato tangram. Potrei portarvi anche quelli volendo, ma per il momento preferisco concentrarvi su quelli risolvibili. Beh, sicuramente questa playlist verrà bella corposa. Quindi, non perdiamo altro tempo e creiamo i nostri can. A questa occasione pensavo di utilizzare del cartone. Non è difficile da tagliare, ma ha lo stesso tempo resistente. Poi, siccome voglio fare un quadrato 12x12, avrò bisogno di un righello e di un pennarello, forbici per ritagliare e, infine, ma questi sono facoltativi, pennelli e colori e un foglio di giornale per evitare di sporcare. Niente di difficile, comunque. Dovete solo disegnare un quadrato sul cartone, magari tracciando anche delle linee all'interno per agevolare il lavoro delle forbici. Io non le ho tracciate dappertutto semplicemente perché mi sto aiutando con questo modello. Magari ricopiatevelo un attimo così siete agevolati. Pensavo di farlo 12x12 cm, ma voi potete anche farlo più piccolo o più grande. Non ci sono regole precise in questo caso. Ok, una volta disegnato tutto, è arrivato il momento di tagliare. Siate precisi, seguite le linee e andrà tutto bene. Infine, c'è l'operazione facoltativa. Potete anche non colorare i tanni, se no vi va. Ma io lo faccio per un concetto di bellezza e di comodità. E di coloro in base ai tanni presenti nell'app. I due triangoli grandi, azzurro e arancione. Quello medio verde. I due piccoli, blu e giallo. Il rombo, acqua marina. E il parallelogramma, magenta. Mettete sul tavolo un bel foglio di giornale, così non macchiate. E il rombo, ma via la vicina. Grazie a tutti Finito! Ecco a voi il risultato finale, come vi sembra? Ora dovete solo tenervi pronti perché poco per volta porterò tutte le 1001 sagome che vi ho menzionato in precedenza. Ok artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'hand card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo. Sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davido Giochi Channel. Arte a 360 gradi. Ciao! Ciao!